Vittoria doveva essere, vittoria è stata, non è mai facile vincere ma sono tre punti fondamentali. Innanzitutto credo che non ci sia stata mai partita, con tutto il rispetto della frattese questa è la turris che vogliamo. Al di là del risultato l'approccio è stato importante, 1-2 subito da parte dei ragazzi si sono fatti trovare pronti e questa è la mentalità che stiamo acquisendo man mano. È vero che la classifica dice ancora che siamo a 20 punti ma io presuppongo che a lungo andare la squadra di Mr. Caranande uscirà fuori. Per valore, per abnegazione, per il lavoro settimanale che stanno svolgendo credo che i sacrifici anche fatti dalla società devono uscire per forza fuori, l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti. Abbiamo perso la settimana scorsa in modo guardevole, a potenza che ci può anche stare però abbiamo una mentalità diversa. Oggi, come ho detto la settimana scorsa, ci rispettano su tutti i campi perché man mano uscirà fuori la vera turris. Sono contento per Roghi, per Liccardi, per tutti, per la prestazione di D'Inverno che si conferma un puntiere comunque decisivo. Non che abbia fatto tante parate ma giocare a Torre del Greco non è mai facile per un ragazzino 99. Mi fa piacere per il pubblico visto che oggi c'era la Serie A, c'era la partita del Napoli e i torresi si sono fatti valere. Per me il pubblico è sempre massimale. Come dico ai suoi colleghi, vedere la turris in questa posizione rapportato al pubblico che c'è per me è sempre tanto. Spero che man mano possano crescere e che già domenica da Versa possiamo essere più di loro perché dobbiamo prenderci dei pronti anche da Versa.